ciao a tutti amici oggi vorrei presentarvi una nuova serie galleggiante all'inglese si tratta di una serie galleggianti che ha come caratteristica la possibilità di intercambiare l'antenna viene equipaggiato con un insert in plastica piena da 3 mm comunque sottile sensibile ben visibile al tempo stesso e di un fischione da 6 mm questa serie alla piombatura variabile e il corpo è prodotto in poliuretano e l'asta è costituita da una plastina sottilissima vuota che noi denominiamo simflex questa serie è disponibile da 10 grammi fino a arrivare a 25 grammi